Per modificare gli aspetti grafici del diagramma dovrò andare nel pannello opzioni. Da qui posso modificare il numero e la grandezza dei tasti, il colore e l'impaginazione delle tastiere ed un certo numero di altre opzioni grafiche. Guardiamole tutte rapidamente. Per modificare il numero e la dimensione dei tasti di una tastiera selezionata posso utilizzare questi slider. Se clicco su Edit All, Edita tutte, influirò su tutte le tastiere. Deselezionando l'opzione i settaggi avranno effetto solo sulla tastiera selezionata. Tutte le altre opzioni del pannello sono opzioni globali ovvero influiscono su tutto il documento. Per mostrare o nascondere i marcatori segnatasto posso cliccare su questa icona. Per mostrare o meno i numeri sotto le tastiere utilizzerò questo altro tasto. Quest'ultima icona crea una versione invertita dei diagrammi per i mancini. È possibile utilizzarla su qualsiasi diagramma anche già esistente. In questo modo i mancini sono agevolati nella lettura di qualsiasi diagramma e gli altri possono decifrare i loro diagrammi. Questi sei riquadri colorati mostrano degli stili alternativi per le tastiere. Mi basta cliccarli per attivarli. È disponibile anche un'opzione bianco e nero che può essere utile come anteprima per verificare per esempio che il diagramma sia comprensibile anche se stampato in bianco e nero. Subito a fianco c'è un filtro a bassa saturazione che allo stesso modo può essere utile per un'anteprima di stampa su vecchie stampanti a colori oppure si può lasciare attivato e stampare questa versione per consumare meno inchiostro colorato oppure semplicemente perché ci piace il look desaturato. Ancora più in basso troviamo il controllo del layout in colonne. Questo permette di inserire tutto il documento su una, due o tre colonne. Questa impostazione del pannello opzioni è globale come dicevo ma ovviamente per la disposizione su colonne posso anche settare le singole tastiere utilizzando le icone presenti sulla barra degli strumenti di ogni singola tastiera.